Come concludi una cosa così grande? Ricordo l'ultima ripresa, quando abbiamo detto buona questa. Non volevano scendere dall'elicottero. Sono rimasti sull'elicottero a fare foto, ad abbracciarsi. Cavolo, tutta la strada che ho percorso qui, a livello attoriale e anche personale, è finita. È stato un accumularsi di molte emozioni. Per molto tempo. E ancora mi sento così. Mi mancheranno moltissimo. Darko, Jaime e Miguel. Esther. It's here.